Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Digamo Piola, siamo qui in una battaglia difficilissima contro la Russia che ci ha sbragato un paio di esercitini, ma insomma, mo' si risolve la situazione perché in realtà semplicemente c'hanno assai numeri alti, ma intanto noi qui in Indocina e in Indonesia ci siamo bevuti tutte le potenze che erano rimaste in giro, quindi adesso praticamente non rimane più nessuno. Stiamo finendo gli ultimi assedi, le ultime invasioni, ma insomma, ormai questi ci salutano ragazzi, ci salutano. Qui stiamo occupando gli ultimi territori a Delhi, queste navi potrebbero anche atterrare così si aggiustano un attimo perché vedo che stanno prendendo un po' di attrition. Qui ho ammazzato un esercitino alla Russia, ma era veramente mini. Eh, guarda, se i russi se ne stanno andando via, io gli vado di corsa ad occupare i castelli perché poi voglio vedere che fanno. Eh, Ligor, come Ligor? Eh, attenzione, attenzione, eccolo qui, eccolo qui, Ligor. È come un altro che deve sparire dalla fascia della Terra. Ok, gli facciamo imperialismo appena quelli ci confinano. Eccolo qui, ci va questo, ci va pure quest'altro e torna indietro. Tiè, facilissimo, ma sto registrando... Certo che sto registrando. Allora, mo, Delhi ci saluta. La sovraestensione non è tanto alta perché abbiamo perso molto tempo a fare queste cose. Manca pochissimo, ma non possono fare niente, calcola. Mo andiamo a occupare Mosca e i vari forti masselli della Russia. Magari portiamo indietro questi eserciti qua che ci stanno a invadere i vassallini oppure le situazioni così. Questi sono già morti, ho vintone. Ok, Delhi è full occupato, quindi si deve rendere per forza. Ci siamo, ci siamo. Eccolo qui. Quindi, questo se ne va, questo se ne va, questo se ne va, se ne va. 35, 21. No, concentriamo. No, qui non concentro ancora, cominciamo a fare core. Ok, poi c'è che dà, che deve sparire. Che dà è anche l'obiettivo di guerra, quindi in realtà questo proprio si applicano tutti gli sconti, l'assolutismo e tutto quanto. Qui praticamente mi sono rifinito un continente. Tiè. Boom, boom. Andremo sicuramente sopra di sovraestensione stavolta. Ok, abbiamo distrutto questo. 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 Mo ci facciamo anche tutte queste situazioni qui. Mo che quell'esercito sta in quell'isola potremo anche andare a invadere le ultime fortezze di Malacca. Malaya, North Malaya. Qui c'è un altro pezzo da dargli fuoco. Ah c'è? Lo possiamo concentrare? No, mi sa che l'avevo già concentrato da stronzo prima. Qui ho concentrato tutto? No? Ok, perfetto. Allora vai, facciamo tutti i core. 150 di sua estensione è leggermente de meno in realtà. Andate qui. Anzi, andate qua. Qua, 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 qua. Tu ti dividi a metà. Questo va qua e questo va qua. Tiè. Questo è per far finire in Malacca. Quanto stiamo? Quindi, vabbè, come lo abbiamo appena visto. Questo esercitino muochi va a prendersi i territori che ci sta facendo Carpezzic la Russia. Tanto per, eh, perché questi varranno zero a punti di vittoria. Però insomma, andammoci. Questo ovviamente si è rifermato che questa paccia maledetta fanno questa cosa. Gli eserciti prima di andare a occupare forte ci pensano. Oh, Sumatra solo siamo... Ah, no, Malaya. No, vabbè, questa era a te Sumatra, mi pare l'isola. Cioè, siamo finiti di botta, eh. Oh, bene. I belli d'Agrittord si attaccano alla Russia. Bravi. Bravi. Ok, Zeta è stato convertito. Dov'è? A Zeta è quello che abbiamo appena preso al Montenegro che fa parte pure dell'Impero. Fa parte pure dell'Impero, così a caso. Questo si è fermato, eh. Si è fermato. Sparo in Cannon perché c'è stagli russi che stanno arrivando. Questo mi sa che può prendersi un generale che non ha nulla. Ok, eccolo qui. Malacca, mo' penso che il volo dalla finestra lo fa. Quant'è? 120, eh. Quello che voglio prendere a Malacca quanto vale, invece? A 101%? Che è successo? Vabbè, non gli prendo questo, gli prendo queste due. Tiè. No, non posso. Ok, questo. 99%. 150% tesoro estensione. Quindi questo dobbiamo aspettare un attimo. Perché se no andiamo a 200% sull'estensione e succede proprio un bordello in quel caso. Quindi, 50 amministrative power o 50 prestige? 50 amministrative power, tiè. Forse gli eserciti della Russia stanno a tornare indietro per difendere Mosca. Banjar è entrato in coalizione. Eccola qui. Tiè. Eccola qui la coalizione, Banjar. Tiè. Eccola qui. La coalizione ce la fai vedere in un altro momento, ce la fai. Ok. Allora, Shenyang è stato convertito. Credo che adesso la coalizione sia anche composta da gli indiani. Ok? Cioè, Vian Gacca ha preso una trambata esagerata di sovraestensione. Cioè, di aggressive expansion quando mi sono bevuto questa gente qui. Poi c'è Araghan. E questi devono stare solo che zitti. Ok, non so se è in Giappone. In Giappone, eh? No. Devono stare proprio che zitti, allora. Ma Banjar ha fatto crollare tutta la coalizione. Plodiv. Ok, questo è fatto. Può venire avanti. Mettiamo un altro a convertire. Quanti ortodossi rimangono? Non tanti, non tanti. Abbiamo fatto una bella rambata di conversione, insomma, in questi episodi. Posso fare la pietà? Bene. Allora, corruzione per 3.000. Abbassiamo corruzione. Posso pagare l'ultimo prestito che avevo. C'ho ben 2.000. E mo' costi i soldi? Se è possibile, io farei qualche workshop che costa abbastanza. Eh, in realtà non tanto. Town Hall, qualcosa che mi fa risparmiare a 6 punti. 10, 18, 8, 7. Mazza, mazza. Oh, questi costano Gesù. Vero, falli di corsa. Questi Town Hall mi faranno risparmiare un bel po' di... di governi incapaciti. Ok, i core continuano. Eh, penso che questi si possano arrendere, però io devo andare a prendere sto forte, probabilmente. Oh, tiè. Mo' bangiarsi andiamo a beve tranquillamente a poco, eh. Infatti la coalizione, penso, è più formata, quindi la coalizione ha proprio l'avviata quello sbagliato. Ok, qui sto riprendendo tutti i territori che mi hanno occupato. Questo mi sa che... gli dovrò estendere l'area di... ammazzamento ribelli. Tiè. Tiè. È assai, eh. Però almeno c'è qualcuno che piano piano si va a ammazzare i belli, perché se no finimo mai. La Russia ci sta occupando territori sempre inutili. Vabbè, vabbè. Vai qui. Vai qui. Vai qui. Vabbè, la Russia c'è un bel po' dei cristiani, mannaggia. Zero manpower, però, eh. E con la Trish on the Night, in realtà, mo' io faccio un bordello se mi vanno a assediare le città. Ok, io ho assediato Mosca. In realtà ho finito a buio la manpower, però, eh. Delhi? Ma me la do dai, cristiani, mi sai già io ho chiesti a Commonwealth. Però me lo dà i soldi. Me lo dà i soldi. Finalmente. Ok. Ok. Tutti qui. Praticamente questo. Questo. Vabbè, basta, tiè. Eh, mo' mi sa che se deve sbrigare, usia, venire a fermarsi ai forti, eh. Perché se no gli faccio degli carpet siege tattici e gli prendo tutto il territorio con una botta. Che voi? Diplomatic King sotto i soccili o più 50 amicizie con Cillio? Io prendo sempre l'amicizia in questi casi perché magari quelli stanno l'allappenta in coalizione e tu li risolvi subito. Ammazzo gli nemici del Commonwealth perché non me ne soccorto. La batteria di Zito Mills? Nooo, nooo, i selvaggi! Eh, questi li potranno... saranno considerati belli, i selvaggi? Se io faccio così, ci andranno a fermarli. Ovviamente no. Che cos'è? La Call for Pizza? Nooo, la Call for Pizza, nooo! Allora, qui ce l'ho... Ma l'inguale librine, se per te che non l'abbiamo proprio mai più, eh, anzi, eh. Ma che è successo? Oh, dividi st'esercito, zì. Allora, vai, arrivi a questi. Ah, Telly è sopravvissuto, rettava, vabbè, perché costava troppo, vabbè. Telly, chi altro c'ha? Alleato dei Mamelucchi. Alleato dei Mamelucchi, oh! Così, dall'altra parte del mondo. Chi altro te potevi mettere come alleato? Oddio, che palle, zì. Eh, ma qua posso scappare. Questa è una steppa? No, è una foresta. Eh, niente, niente, purtroppo hanno presi. Forse rinco perché... Forse è l'esercito tutto mezzo smaglialato. Ok, scappa qui. Venite tutti qui. Sì? Forse. Vediamo, eh. Si sogna? Questo gli sdraglio proprio alla manpower. Gli ho preso subito un forte. Questo ancora non è arrivato? Ok, non muoio, va. Questo dovrebbe vincere, cara, qua. Oh! Oh! Come si strilla! Burgas! Izumo! Ok, questo è già stato un core. Bene. Facciamo così. Mo, questo... Ma, senti, ma questo non è che può intervenire qua. Ok. Quanto manca? Ok, penso che adesso posso ammazzare Malacca perché probabilmente 150 scende molto. Non muoio da. Ah, perché c'è forte. Eh sì, devo aspettare che il piaco è forte. Ok. Con sta nave vai a bangiare. Questi se stanno a riunire. Ok. Mo a Russia gli ho preso la capitale e gli comincia a salire la... La cosa, il punteggio di guerra bestia. Un po' di guerra altive, c'ho, eh. Però vabbè, dai, sono qui, sono piccole. Sono tutte piccole. Allora, Malacca. Malacca mi dai pure 43 euro. Ok, qui c'è un coso però di essere indiano. Non è male. Non è male questo... Ok, pure in 3 company già lo posso mettere. Ok, pure questo in 3 company. Questo in 2 invece. Questo è mazzale. Senti, fammi prima concentrare tutte le cose che posso concentrare perché sennò continuo a sbagliare come ho appena fatto 15 volte. Ok, qui avevo già cominciato a Fire Corn, ma avevo fatto la concentrazione. Ok. Eh, la maggior parte sono pure già... Già sul musulmane. Ok. Ok. Bene. E si strilla. Eccoci qui. Aspetta. Poi c'è questo. Eh, un sacco di roba abbiamo preso stavolta, eh. Oh, fai la concentrazione, fai la concentrazione. Bene. Bene. E bene. Ottimo. Eh, questa... Questa l'hanno sentita, mi sa, malacca, eh. Questa l'hanno sentita. In tanti punti proprio flowano come se non ci fossero domani. Fammi fare la tech questa qua che mi dà con gli incapaciti. Ok. Qua forse prendo pure il mercante per quante province ho aggiunto in 3 company. A proposito, ma start to convince, qualcosa di sunnita c'è? Eh, eccole, eccole qua. Sunnita, sunnita. Sunnita. Fammi così, tiè. Eh, tutte queste vanno messe in 3 company. E paghi più dei governi incapaciti ma prendi i soldi a bestia dal mercante. Pure quattro, eh. Questa no, è The Delhi. Non la posso mettere. Johor, va bene. Queste già ce l'ho messa. Poi qua c'è sta un bel corde roba che non ho aggiunto in 3 company. Tutto che dà, praticamente, raggio a coso. Ma che religione è questa? Ah, buddismo, ok. Che dà? Oh, mazza, oh, mazza, oh. Mazza, oh. Eh, qua i soldi li prendi, eh. Non ne che gli ripi. Oh, poi qua pure c'è qualcosa da dagli fuoco. Ok. Ok. È ok. Adesso devo andare a mangiare. Quindi uno rimane qua. Ammazzare i ribelli, possibilmente. Yeah. Che manco è troppo l'unrest, eh. 212 le... Ah, che... No! No! Meno male, qua che cosa sta per finì. Ok, sì, sì, sta per finì, qua. Meno male. Metti in ordine le sue restenzioni. Ma la che costa, eh. Ok, mi è arrivato due mercanti. Non un mercante, due mercanti. Quindi mettiamo qui una collect from trade. Perché purtroppo l'India ancora non ce l'ho. E uno nelle Moluccas. Così mi metto a... No, l'ho detto in Siam. Lo metto in Siam. Ok, eccolo qui. No, quello nelle Moluccas non l'ho messo. Ok. Bene, perfetto. Mo' questi arrivano li posso mettere a pompare, anzi a convertire. 206% di sovra estensione. Speriamo che i ribelli non se ne accorgono. Hanno affittato gli scandinavi un po' dei cristiani alla Russia. Mannaggia loro. Ho un sacco di sordi. E sti sordi a due soldi arrivati. Se sti soldi sono arrivati, finalmente possiamo fare, ad esempio, stock exchange alla nostra capitale. Se già non l'ho fatta. Mi sa che invece già ho fatta. Sì, perfetto. Allora, non mi interessa la carta. Posso fare una canting house alla mia capitale. 5,84 prendo. La canting house non conta. Cioè, non è tanto buona. Però, insomma, se costa così tanto, magari un pensiero ce lo volete fare. Devo fare 5 università per fare la cosa della prossima epoca. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Così già arrivo con l'epoca fatta. E facciamo qualche altra town hall. Tiè. Altri 16 risparmiati dei governi incapaciti. Bene, bene, bene. Ecco qui che l'Igor se ne va. Wenzu è stato convertito. Guarda quanta roba stiamo a fare, ya. Smolensk. Ottimo. Novgorod. Che vuoi? Uno di innovativness per dubiotte. Andiamo a distruggere qualche provincia per non dover prendere prestito. 92. Me sa in cia la famo. No, che rosicata, che rosicata. Allora vado a annullare qualche costruzione. Ma da un po' che mi dice il cervello. Tiè. Dove sta? Ok, tiè. 150. I soldi ce l'ho. Vai a fermare quello, invece. No, no. Insegui questo da 21.000 che gli faccio un casino. E vabbè, la Russia piano piano ha sfondo. Questo può andare da banjar. Intanto la Russia ha spostato l'esercito nei posti più inutili possibili. Ma questo non do sta canna. Ma questo non do sta canna. Questo si è fermato? No. Sta a continuare. Un altro gruppo dei servaggi si è ribellato. Questi tizi li possono andare a far fermare i servaggi, in realtà. Oh, un altro mercante. Questo lo mandiamo a Canton, allora. E non possono mettersi a convertire? Ancora sono arrivati i mercanti. Pensa quanto viaggiano. Naga. Tura. Ok. Vabbè, ora c'è andato. Ora questi si riuniscono, tutti insieme allegramente. Mi stanno attaccando. Mi hanno trovato. Ok, stanno venendo sul coso di No Gorod, quelli di 21.000 che stavano a scappare. Posso fare Propagate Religion a Malacca. E probabilmente appena arriva quello qua, anche qui. No, a questo. Che è quest'altro? Ah, non c'è il 50% nelle province da Three Company. Ok, là probabilmente dovrò convertire più cose. Ma quando arriva quello c'è un altro coso di riforma. C'è l'ennesimo proprio. Eccolo qua. No, in realtà pure a Malacca. Ecco qui. Quindi ragazzi, andiamo a vedere quanti centi di riforma abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui è finito. Qui pure. Qui da mo'. Ok, 8 per adesso. E dobbiamo ancora prendere l'India. Cioè, poi immaginatevi quanto è rotto sto bonus quando c'è tipo 15 mercanti che stanno tutti a convertire. Eccoli, li ho beccati. L'Attacca è stato convertito da Lahore. Ok. Portugale e Biangar, ho preso un caso svegli. Shook One. Ok, stanno arrivando un po' dei ribelli a rompere i coglioni. Nijin Novgorod. Questo va a Vladimir Putin. Prek, Russei, ho ammazzato qualcuno. Ferma la corsa, dividete. Questo è sbarcato a Banjar. Quindi questo va qua. Mo' vado a insegui Banjar che sicuramente mo' se fanno torneo di incularella dove t'ha fastidio per forza. Ho pure vinto una battagliona biggest qui. Sì, fermati. Questi 21 in realtà possono tranquillamente andare a difendere il forte perché sono troppo pochi questi. Sti 1k me li bevo. Ok, 37k, devo correre via di corsa. Ok, e questi vanno a fermare i servaggi. Un altro ha convertito 9 centri di forma. Quello che abbiamo messo qui è... Quello da 34 sta lì a fermarsi i ribelli, va bene. Questi se stanno a ripia qua, Ligor ancora non ha perso. Questi da 18 vanno qui e poi andranno... Anzi, fai così. Tiè. Fai così, fai così. Questo da 1 poi si ferma qui a fianco e poi prenderò quel coso. Quanta è la sovraestensione? 198k, quindi l'abbiamo appena abbattuta di quello che ci serve a noi. La Russia sta al 42%, quindi in realtà li stiamo... Stiamo per vincere. C'è uscito un altro generale con 50 tradizioni. Forse fa schifo, però. Oddio, c'ha un sacco di punti di fuoco. Eh, però, dai, fa cagare. Ok, vai. Saratoga. Ok, così i ribelli liberano la provincia che ha preso la Russia. La Russia perde punti di vittoria. Ho vinto contro Ligor. Se questo vale 12%, eh no, devo aspettare. Devo aspettare, se no per colpa dell'Igor vado al 200%. Ok. Quello è scappato? Sì. Questo? Ok, ho ammazzato l'esercito della Scandinavia. Vai a Vladimir Putin. Tu insegui quello là. Mettete proprio a cuore. Ok, ma che questi prendono, questi fanno un carpezziggio di Dio. E poi ammazzo pure Novgorod. No, è l'alleato del Commonwealth, non posso. E... Vai, vai, eccolo. I primi 15 ribelli morono. Dei ribelli sono entrati a Banjar. Va bene. Allora, guarda, sto 1k lo mando qui. Visto che era quello l'obiettivo. E sti 16 in realtà vanno diretti lì. Senza passare per sta provincia. Tu vai a aiutare l'assedio di Banjar. Ma sto registrando. Sì, certo. Ok. Ammazziamo un po' di ribelli banjaristi che giravano da un po'. Pegu. Nanjing. Ok. Nanchang. Vabbè. Tutti nomi interessanti. Mo' che arriviamo al massimo di punti militari. Faccio un po' di professionalismo, ragazzi. Perché in realtà abbiamo il 20%, che non è male, ma è troppo poco. Anzi, ti dirò di più. Lo facciamo subito. Prendiamo la manpower perché ci serve. Poi facciamo uno, due, tre, quattro, cinque. E li cacciamo tutti senza neanche vedere chi so. Ok. Sangurang. Ok. Mo' andiamo ammazzati a Banjar. Eventi marci da solo estensione. Oh, sono finiti i nemici, eh. Sono finiti i nemici. Banjar, per qua. Questi qui che pisteremo appena possibile. Viangar ha sentito puzza di fango. Era pure ora. E poi mo' tocca all'India. Mo' una volta che finiamo là, passiamo all'India, ragazzi, eh. Mentre intanto ci freghiamo la Russia. Ma dove stanno i russi? Ok, chi è qua? Questi probabilmente stanno andando qua. Vyatka. Eh, invece stanno andando a Kazan, te lo dico io. Vuchang. Bene. Questo intanto si fa i peggio giri per fermare i belli. Questo piano piano si riprende. Lese. Ok. Dov'è? Sumnita nell'impero, eh. Nell'impero, così. Iguami. Eh, non so dove sta Iguami. Lanzong. Ciancianburi. Ok. Nashda ha preso un'altra provincia. Senti, facciamo così. Uno, due. 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 Eh, un po' di gente in giro ho bannato, eh. Nanchang. Va bene. Qui la Critthord mi sta dando una mano con i ribelli. Evento marcio della cosa, della sovraestensione. Ferma la corsa. Oh, beh. Come stavano messi? I 198, ma c'è qualcosa che sta per finì? No, stanno tutti belli lontani. Intanto quell'1% dei attrition, delle idee nazionali di Nashda, gli sta a sdragliare tutto l'esercito alla Russia. Aprego con Kadunisi è finita. Suzu. Va bene. Kangra. Va bene. Ok. Ok. Ah, questi ce pensano l'esercito del Giappone. Kutarajan. Non so dove sta. Kutarajan mi sa che stava qua, però. Da ste parti. Eccolo là. Allora, questo non ce la va da solo. Ok. Senti, gli stai navi in realtà possono atterrare. Novgorod. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, ti è? Questo? Noia regge da andare a combattere. Ti è? Molto da reggere? Sì, da reggere. Sciu. Va bene. E' un po' anche... Uuuuuh! Ok. Silistria è stato convertito. Ho perso dove? Ah, qua dove mi sono ritirato. Taragan. Ho vinto ne. Vai qui. Do cazzo stai andando? Ok. Un'altra conversione da un'altra provincia ortodossa. Intanto qui sto facendo una mega annessione. C'è una mega carpet siege. Mo ce vai da là. No, non ti ha regge. Vabbè, mo che te li di, ti ha regge, me sa. Scove. L'ho preso. Ok, ragazzi. Facciamo l'ultimo carpet siege. Ok, firmate. Ok. Poi li mischiamo bene, sti eserciti. Sing la bobbana. Ok. Chiang Mai. Pasai. Mamma mia, che bordello, ragazzi. Che bordello. Mi sa che Banjarci saluta però, eh. Zitto, zitto, Banjarci saluta. Ragazzi, sulla soia del 200% sovra estensione, abbiamo finito l'Indocina, abbiamo finito praticamente l'Indonesia, mancano soltanto gli stati, cioè le province dei coloniali. Ho dei gente che sta lontana, a parte sto rimasuglio qui, però insomma quello ce lo beviamo subito. Arriva il momento di attaccare l'India, arriva il momento di far sparire la Russia, appena finisce la terra con gli ottomani facciamo sparire gli ottomani e Killua. Io con questo, e poi tocca ai mamelucchi, io penso che entro il 1710, sti stati che ho nominato in questo elenco, spariscono tutti, con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, a presto!